Svolta nelle indagini sulla Fulgola Libertas Basket Forlì, condotte dalla Guardia di Finanza e coordinate dalla Procura del Capoluogo Romagnolo, dirette alla ricostruzione degli A20 antecedenti il ritiro della squadra dal campionato di Serie 2 Gold e il fallimento della società. Le fiamme gialle forlivesi hanno posto sotto sequesto azioni di tre società per un controvalore di 44 milioni e 760 mila euro. Si tratta di 5 milioni di azioni della Fulgola Libertas, corrispondenti all'ammontare delle partecipazioni azionari oggetto del fittizio aumento di capitale che consentì la trasformazione della società da SRL a SPA nel mese di luglio 2014. A queste si aggiungono oltre 27 milioni di azioni del gruppo Chirisi Boccio, il cui capitale sociale nel luglio 2013 era stato aumentato mediante conferimenti in natura di polizze assicurative e di bond svizzeri emessi dalla MBC Swiss, società riconducibile, allo stesso Boccio. La terza società interessata è la SAFLA, società veneta, che aveva ceduto titoli alla Fulgor nel settembre scorso e alla quale sono state sequestrate azioni per 12 milioni e mezzo. Cinque le persone iscritte nel registro degli indagati per reati contro il patrimonio, fallimentari, societari e falso. Si tratta della rumena Mirella Chirisi, a suo tempo presidente della Fulgor Libertas, e del marito Massimiliano Boccio, oltre a tre responsabili delle società coinvolte. Le indagini hanno consentito, spiega la Guardia di Finanza, di accertare che i diversi conferimenti e gli aumenti di capitale erano stati sovrastimati dai periti incaricati. L'ingente capitale sociale così costituito, secondo le fiamme gialle, avrebbe consentito di porre in essere diversi reati, tra le quali truffe e reati fallimentari, anche per ottenere linee di credito da istituti bancari. Le indagini, volte anche a tutelare gli appassionati e gli sportivi dalle condotte illecite di natura economico-finanziaria, che sempre più spesso rischiano di inquinare i valori dello sport, proseguono al fine di chiarire definitivamente la vicenda e il legame tra le società coinvolte.